E' a posto sta ragazza? Non lo so, l'ho conosciuta solo ieri, ma spero di sì. Sai che deve fare? Domani ti presto la macchina. Tu non la presti mai a nessuno. E invece a te la presto, voglio che fai una buona impressione. Ti prende la macchina e così le fai il test. Quale? Il Mario testo? Mario. Mario ha il cervello vacato. Ma perché? Lo stai pure a sentire. No, le fai il mio testo, il testo dello sportello. E chi è questo testo? Allora, sente bene. Tu fermi la macchina davanti a lei, ok? Prima di scendere metti la sicura alle portiere. Scendi con calma, vai verso di lei. La accompagna alla macchina, tiri fuori la chiave, la infili e le apre lo sportello. Poi fai salire lei e le richiude lo sportello. Fai il giro passando dietro alla macchina e guardi verso di lei. Se lei non si allunga a togliere la sicura per farti entrare, mollala. Così, tutto a un tratto. Dammi reterci, se non si allunga verso lo sportello a togliere la sicura per farti entrare, significa che è una grande egoista e quello è solo la punta dell'iceberg. Mollala e mollala alla svelta. E tutto quello che mi hai detto, che devo fare quello che mi dice il cuore, che è solo questo che conta, che forse è quella che mi fa salpare a ve le spiegate. Insomma, potrebbe essere quella importante. Balli, il test dello sportello è quello che conta. La molli è anche alla svelta. La mollo. Bravo. Ciao, Sonny. La mollo. Ci siamo tutti, vieni. Andiamo, ragazzi.